Il Festival Mediterraneo di Altomonte, Altomonte Summer Contest, adesso cominciamo con la prima parte, poi ci sarà il Festival Bene Proprio a settembre, il tema è importante, vola, chi osa farlo? Lui Sepulveda, da questa frase parte l'essenza dell'evento di quest'anno, che chiaramente parte dall'idea di voler in qualche modo recuperare il sogno e la voglia di costruire progetti culturali. Per due anni siamo stati fermi, forse ancora non ne siamo fuori, però dobbiamo riprendere a sognare e a costruire progetti culturali, perché la cultura rappresenta un elemento importante che ci consente di immaginare un futuro migliore e di costruire un futuro migliore. Questa esperienza e questo invito da parte vostra con grande gratitudine, perché questo è un festival ed è un luogo dove si fa cultura e lo si fa con la C maiuscola, per cui è un onore essere qui e essere stato invitato a rappresentare poi il, come dire, questo slancio e questo desiderio, questo amore per la cultura che Altomonte mette all'interno di questo festival da così tanti anni. Altomonte è un luogo dove la cultura si fa, però vale la pena insistere e spingere il più possibile sull'acceleratore in questo senso, perché viviamo un periodo in cui la cultura ha necessità di ritrovare vigore. La 34esima edizione significava interrompere un'iniziativa che negli anni si era ripetuta ad Altomonte. Il cartellone è molto ampio, dal 12 agosto al 25 agosto e mancano anche delle date che sono in via di definizione. Ce n'è una importante da ricordare che è il trio di Andrea Millace che si esibirà nella famosa piazza di Santa Maria della Consolazione, terrazza naturale, sul borgo di Altomonte. Come dice l'incipit del nostro festival, solo chi osa può volare. E quindi Altomonte, con le sue forze, parte per una stagione culturale che sia anche un momento di ripartenza, di ricrescita, di ripresa, di speranza e di apertura al post-Covid. Un'importante collaborazione con alcuni promoter calabresi ci permette, con poche spese per il Comune, di proporre un cartellone interessante che va dagli spettacoli teatrali alla danza, alla musica, al cabaret. Un momento quindi di gioia, di godibilità, nella cornice estremamente importante di Altomonte, che è un contenitore culturale di assoluta eccezione. Una cosa importante, abbiamo voluto scegliere la formula dell'ingresso gratuito. E' una provocazione, perché particolarmente in questo momento bisogna portare le persone sui temi della cultura e nei luoghi della cultura.